Ancora furti a Fiumicino dalle abitazioni alle auto parcheggiate sul lungomare. I cittadini si uniscono per chiedere più controlli ma anche per fare una rete utile ad aiutare le forze dell'ordine. Da un mesetto a questa parte che a Fiumicino si sta vivendo una escalation di furti e rapine. La rapina al Monte dei Paschi in via Torre Clementina in pieno centro. La scorsa notte è stata fatta una tentata rapina alla cassa di Civitavecchia, cassa di risparmio, un supermercato ma comunque anche per i furti all'interno delle abitazioni a qualsiasi ora del giorno e della notte. Parliamo di furti avvenuti alle 10 e mezza del mattino, alle 11 e 30, alle 17, alle 1 e mezza di notte. Parliamo di qualcuno che si è trovato alle 5 del pomeriggio stando in casa i ladri dentro. Quello che vogliamo proporre noi è questo, di creare una rete anche con i social, con le forze dell'ordine. Quindi magari noi anche se è possibile da creare come filtro per evitare allarmi inutili e informare le forze dell'ordine in tempo reale per poter dare aiuto a chi è meno fortunato. Perché magari un anziano che è dentro casa, che è da solo e si trova di notte i ladri dentro casa non sa come reagire. L'altro giorno alcuni residenti hanno organizzato una riunione a Villa Guglielmi per capire insieme come difendersi da questa escalation di microcriminalità. È un problema che diria poi da tanto tempo perché io faccio parte anche dell'associazione di imprenditori del lungomare della salute e lì siamo tartassati. I nostri clienti la sera vengono a cena nei ristoranti e escono e la macchina ha il vetro rotto e gli viene portata via i loro beni che stanno all'interno dell'auto. Continuano anche lì? Un ultimo è meno di un mese fa. Infatti abbiamo chiesto un aiuto ma purtroppo se era bene la polizia ci dicono che non hanno copertura perché hanno solo due auto che devono coprire gran parte del territorio di Fiumicino. Come sappiamo non ce la possono fare. Ho paura di trovare qualcuno dentro e poi comunque col fatto che ho mio marito che fa i turni quindi spesso e volentieri la notte non c'è, capita anche questo. Giustamente vivo con l'ansia, vivo con la paura, basta un rumore, basta anche lo scarico dei rifiuti a mezzanotte che io se dormo salto dal letto. È la stessa cosa per i miei figli. Quindi sinceramente non mi sento né sicura di essere dentro casa e né sicura di uscire. Se io alle 11 o alle 10 e mezza di piena estate decido di fare una passeggiata con i miei figli non mi sento al sicuro, non lo faccio assolutamente. Sulla sua pagina Facebook intanto il sindaco Esterino Montino scrive Chiedo una maggiore collaborazione alle forze dell'ordine in attesa che si riesca ad aumentare il numero degli effettivi in campo, oggi inadeguato, considerata anche l'estensione del nostro comune.